Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con crema di mortadella e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Ingredienti sono mortadella tagliata a pezzetti, pistacchi in granella, latte, pasta tipo trofie, filadelfia, sale, pepe, noce moscata, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la mortadella e la facciamo tritare per 10 secondi a velocità 4. toglierne due cucchiai e metterla da parte. Aggiungere la filadelfia la granella di pistacchi, il latte, la noce moscata, il pepe, il sale ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Mettere la crema in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale mettere l'acqua, il sale e portare l'ebollizione per 8 minuti 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso è 6 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. La pasta è cotta, scolarla e versarla nella ciotola con la crema. amalgamare bene, impiattare e servire spolverizzando con granella di pistacchi e la mortadella messa da parte. Pasta con crema di mortadella e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!